Riprendiamo la linea, un quasi gol non visto certamente su azione di calcio d'angolo battuto da Chirico, fanno proseguire sia gli assistenti che l'arbitro, la svista sembra che il portiere Marcone che aveva sbagliato non riesce ad acciuffare il pallone finito oltre la linea di porta ma comunque questo non viene visto e pertanto il risultato è ancora fermo sull'1-0 Crotone Avellino dall'uscita di nuovo linea allo studio.